Come medico neuropsichiatra infantile presenterò questa tematica in una maniera il più possibile scientifica. La prima parte riguarderà quindi il tema intelletto e disabilità intellettiva, il 3% della popolazione infantile, i concetti fondamentali delle neuroscienze, concetti che hanno rivoluzionato la modalità di interpretare, conoscere e affrontare disturbi in età evolutiva, ed infine il vasto contenitore diagnostico disordine del neurosviluppo, dove oggi si trovano la maggior parte di quelle condizioni di salute che riguardano l'età evolutiva e che sono di particolare interesse per il mondo della scuola. Nella seconda parte verrà poi approfondito il tema allievi gifted, riconosciuti ora come categoria bisogni educativi speciali, pur non rientrando tra quei disturbi che vengono diagnosticati in ambito sanitario. Garantire e promuovere la loro crescita è un elemento di forza per la classe.